Allora ragazzi, come vedete Romagna Boys in campagna, in montagna diciamo, tra la natura. Che cosa gli vogliamo dire a questi amici che ci seguono? Beh Romagna Boys, bel ambiente, belle macchine, bella gente. Abbiamo mangiato, bevuto, adesso stiamo vedendo a scrocco la casa di un amico, quindi vado benissimo. Viva noi! Ciao ragazzi, continuate a seguirci. Grazie.